e il buongiorno giunge a tutti i radioascoltatori di Cinradio 100.7 Cine FM e la sintonia giusta da parte del vostro Maurizio. Buongiorno alla nostra mena in regia e a Mystic Mike qui in esterna che ha fatto veramente un ottimo lavoro per assemblare il tutto. Oggi siamo arrivati a giovedì 23 ottobre. Siamo tutti contenti perché ovviamente splende un bellissimo sole per una massima di oggi quasi primaverile più 10 per adesso siamo più 16 per adesso siamo a più 10. E per quanto riguarda noi oggi siamo nuovamente in trasferta siamo in quella di Woodbridge siamo esattamente dagli amici di Linen Warehouse Outlet. Fra qualche minuto vi dirò tutto su questo negozio del risparmio. Per adesso apriamo bene le orecchie e ascoltiamoci la prossima canzone di Edoardo Bennato, Afferrare una stella. Ed abbiamo ascoltato la splendida voce di Edoardo Bennato, Afferrare una stella. E beh, tutti noi vorremmo afferrare una stella. Intanto oggi cosa afferriamo? Afferriamo il risparmio grazie agli amici di Linen Warehouse Outlet che è aperto anche a Woodbridge. Siamo nella Woodbridge Mall esattamente fra Autostrada 7 e Martin Grove. Oggi si risparmia su tutto quello che ci serve per la nostra casa. Loro hanno accessori per il bagno a partire da 3 dollari e 99 e poi un ampio assortimento di lenzuola. Ma sentite questa offerta sulla lenzuola misura Queen a partire oggi a 37 e 99 il set fino a 59 e 99. Di solito, come tutti voi sapete, il prezzo regolare è di 129 e 99 fino a 149 e 99. Quindi pensate che strepitoso sconto riceverete oggi se venite qui. Poi loro hanno asciugamani a partire da 6 e 99. Di tutte le misure, gli strofinacci da cucina, tanto utili alle nostre donne di casa ma anche agli uomini, 7 e 99 per 3. E poi le famose tende da doccia, 9 e 99. Un prezzo veramente incredibile. Vi voglio ricordare che oggi in occasione del remote di CIN Radio, ulteriore sconto del 10% sui prodotti già scontati. Ebbene sì, avete sentito bene, i prodotti sono già scontati, ma siccome oggi siamo noi qui a fare il remote, loro hanno deciso di fare un ulteriore sconto sullo sconto del 10%. Una cosa incredibile. Ricordo che per ogni acquisto da 25 dollari in su riceverete un vassoio in porcellana di marca in omaggio. Potete così mettere i vostri biscotti, sistemare la vostra frutta regolarmente in cucina su questi magnifici vassoi che loro vi daranno in omaggio per una modica spesa da 25 dollari in su. Il nome giusto di oggi è senza dubbio Linen Warehouse Outlet e si trova esattamente alla Woodbridge Mall, angolo fra Autostrada 7 e Martingrove. E adesso continuiamo con la musica. Alle ore 11 e 11 minuti primi arrivano loro, i Mattia Bazzar. Generazione di fenomeni alle ore 11 e 18 minuti primi di questo giovedì 23 di ottobre erano gli stadio con questa bellissima canzone. Prima abbiamo ascoltato i Mattia Bazzar con questo folle sentimento. Diamo per un attimo uno sguardo alle previsioni del tempo. Sono 10 gradi in questo momento, la giornata è bellissima, splende un bellissimo sole, non ci sono nuvole per una massima di oggi che raggiungerà i 16 gradi. La minima nella notte sarà solamente di più 8, ma ci possiamo sicuramente accontentare. Per domani più o meno stessa situazione con sole 16 gradi di massima e invece nella notte 7 gradi la temperatura minima. Ma udite udite, sto dando uno sguardo anche alla settimana prossima, martedì sono previsti 20 gradi, ma è uno scherzo oppure no. Non siamo a carnevale, quindi dovrebbe essere la verità, ma staremo a vedere. Per quanto riguarda invece la situazione sul traffico, traffico scorrevole, per fortuna non ci sono incidenti, ci sono solo quei lavori in corso che ormai anche voi avrete sicuramente imparato a memoria. Sulla 400 direzione northbound all'altezza di Jane Street ci sono i lavori in corso, quindi rallentamenti in quella parte della città e quindi fate attenzione, mantenete la distanza di sicurezza. Così come i lavori in corso la fanno da padrone, come sempre ormai da un po' di tempo sulla 401 direzione eastbound all'altezza di Avenue Road. Fate attenzione perché ci sono lavori in corso il traffico è rallentato. E adesso, prima di andarci a ascoltare la prossima canzone di Francesco Renga, un po' di consigli per gli acquisti. Sono Michael Di Biase, il 27 ottobre si va a scegliere il consiglio comunale. Io rappresento la città di Van da oltre 25 anni, ho dato voce e lavorato per i cittadini di Van e desidero continuare a lavorare insieme a voi. Come sapete mi sono candidato per la posizione consigliere regionale e vi chiedo di votare per me. Il 27 ottobre andiamo tutti a votare. Michael Di Biase per Regional Counselor della città di Van. Questo messaggio è autorizzato dalla campagna elettorale di Michael Di Biase. Ed abbiamo ascoltato Tiziano Ferro con la canzone La differenza tra me e te. Prima era l'ultimo capolavoro di Francesco Renga a Un isolato da te e oggi alle ore 11 e 31 minuti primi siete sulla sintonia giusta CineFM 100.7 di questo giovedì 23 ottobre veramente soleggiato. Io vi invito a venire nella trasferta dove ci troviamo oggi. Care casalinghe, oggi è veramente l'occasione di venire qui e risparmiare perché siamo in esterna dagli amici di Linen Warehouse Outlet che ha aperto proprio qui al Woodley Mall, angolo tra la 7 e Martin Grove. Caffè espresso, chimbo, biscotti, il tutto grazie a Gigi Importing, fate l'amore con il sapore e una rosa per tutte le signore gentilmente offerte da Ital Florist. Oggi c'è veramente tutto per risparmiare fino al 70% sui prodotti per la casa quindi fatevi avanti, venite a trovarci qui al Woodley Mall, angolo tra la 7 e Martin Grove. Il nome giusto di oggi è Linen Warehouse Outlet. Vi aspettiamo e adesso torniamo in musica. Ascoltiamoci uno dei grandi capolavori di Mango, Il Mare Calmissimo. Ed abbiamo ascoltato la voce di Riccardo Cocciante con questo capolavoro Celeste Nostalgia. Prima abbiamo ascoltato Mango con Il Mare Calmissimo. Ebbene sì, questa canzone Il Mare Calmissimo mi fa venire in mente ad esempio le spiagge di Cuba che arrivano perché la 27esima edizione del Cin Winter Picnic quest'anno dal 6 al 27 febbraio si svolgerà a Cuba e precisamente sulle splendide spiagge di Caio Santa Maria presso un delizioso albergo, il Melia Caio Santa Maria Hotel. Tanti divertimenti come al solito con la classica spaghettata, tanti giochi fra cui la tomola e la scopa e le serate di dinner gala. Inoltre per gli intrattenimenti musicali quest'anno grandissimi artisti. Uno che arriva direttamente dall'Italia, il famosissimo Sandro Giacobbe e poi Bruno Nesci, l'Elvis di Toronto, a tutti conosciuto così, poi Jessica Frasca, Luigi Sganga e Vince De Rosa. Ricordo che quest'anno il Cin Winter Picnic è un'esclusiva di Nolly Tours prenotate oggi stesso presso il vostro agente e mi raccomando dovete assolutamente richiedere il braccialetto Cin per poter partecipare a tutte le attività. Il Cin Winter Picnic ritorna, è proprio qui, dietro l'angolo. E adesso prima di andarci a ascoltare la prossima canzone alle ore 11.42 minuti primi di Gianluca Grignani, un po' di consigli per gli acquisti. Gianluca Grignani, con la sua bellissima canzone, devo dire la verità, la mia storia fra le dita, le ore 11.50 minuti primi di questo giovedì 23 di ottobre. Oggi, come ho detto prima, siamo in trasferta, quindi, care casalinghe, dovete assolutamente venire qui nella trasferta di oggi dagli amici di Linen Warehouse Outlet, che è aperto qui proprio al Woodbridge Mall, angolo tra la sette e Martin Grove. Veramente cose eccezionali, cose da pazzi, come si dice a Firenze. Perché se voi pensate che per gli accessori per il bagno, a partire da 3 dollari e 99. Le lenzuola misura Queen a partire da 37 dollari e 99 il set, fino a un massimo di 59,99. Ricordo il prezzo regolare è di 129,99, fino a un massimo di 149,99. Quindi potete pesare, dalle mie parole, quanto quanti dollari vengano scontati su queste lenzuola. Poi ci sono i contenitori in porcellana, per le famose dip, 3 più il vassoio a solo 6,99. Ricordo il prezzo regolare è 99,99. Uno sconto veramente incredibile. Anche sugli asciugamani, che oggi li vendono a partire da 6,99 di tutte le misure. Per le casalinghe che amano cucinare, a cui questi strofinacci non bastano mai, venite qui ad acquistarli, 3 per solo 7,99. E poi per gli amanti delle tende da doccia, come siamo noi italiani, oggi le vendano a un prezzo strepitoso. 9,99 per una tenda da doccia, un prezzo veramente incredibile. Oggi ricordo che i prezzi sono già scontati fino a un massimo del 70%, ma oggi in più, visto che noi di Radio Cine trasmettiamo da qui, c'è uno sconto superiore, del ulteriore del 10% su tutti i prodotti, come dicevo, già scontati. Quindi è una cosa incredibile. E non è finita, perché per ogni acquisto, da 25 dollari in su, riceverete un vassoio in porcellana di marca in omaggio. E quindi potete sistemare la vostra frutta, i vostri biscotti e poi servirli ai vostri ospiti. Tutto questo succede qui, insieme al caffè espresso chimbo, ai biscotti, in tutto grazie a Gigi Importing. Fate l'amore con il sapore. Per tutte le signore che verranno, una bella rosa in omaggio per offerta da Ital Florist, per ogni esigenza, 416 745 70 45. Il nome giusto di oggi è senza dubbio Linen Warehouse Outlet. Si trova esattamente angolo tra la 7 e Martin Grove. E adesso torniamo alla musica, arrivano i Poo. Eppur mi son scordato di te, come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è, lei era bella però. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. E ci siamo ascoltati anche questa bella canzone dei Poo. Eppur mi son scordato di te, alle ore 11 e 56 di questo giovedì 23 ottobre, un giovedì fantastico. C'è il sole, la temperatura continua a salire, siamo arrivati a 12 gradi, per una massima di oggi di 16. E adesso siamo in chiusura della prima ora insieme, insieme a Maurizio, sintonia giusta, Cinefm 100.7. State con noi perché adesso chiudiamo l'ora con una bella canzone di Riccardo Fogli. Torna a sorridere. Ornella Vanoli con la sua canzone Basta poco ad aprire questa seconda ora insieme. Seconda ora insieme a Maurizio, devo dare il buongiorno al nostro Alessandro Battaglia in regia. Siamo giunti alle ore 12 e 04 minuti primi, vi devo ricordare, della trasferta di oggi, perché oggi si risparmia sui prodotti della casa. Tutto quello che vi serve, venite qui e lo potete trovare. Accessori per il bagno a partire da 3,99. I double covers, misura Queen e King a partire da 14,99. Un grande, un grande prezzo. Poi, chi non usa uno strofinaccio da cuscina? Tutti usiamo strofinacci da cuscina, 3 per solo 7,99. E poi vi ricordo questo bed in a bag, incluso coperta, lenzuoli, fodere, cuscini, copriletto. Tutto questo a partire da 49,99. Veramente un prezzo fantastico. I prodotti qui sono già scontati fino a un massimo del 70%, ma siccome oggi noi siamo qui a fare il remote live, loro hanno deciso di fare un ulteriore sconto, quest'oggi del 10%, quindi un prodotto già scontato fino al 70%, più il 10% grazie al remote di CIN Radio. Oggi dovete non camminare, dovete correre per venire qui e approfittare di queste strepitose e eccezionali offerte. E non è tutto perché con ogni acquisto, da 25 dollari in su, riceverete un vassoio in porcellana di marca in omaggio e potete sistemare, come detto prima, la frutta, ad esempio i vostri biscotti da offrire agli ospiti in questo fantastico vassoio in porcellana. Quindi mi raccomando, oggi ci sono tutti gli ingredienti giusti, c'è anche il caffè espresso chimbo, i biscotti, tutto grazie a Gigi Importing, fate l'amore con il sapore, ed inoltre per tutte le signore che stanno venendo e sono tante, una bella rosa. Cosa c'è meglio di una giornata di sole fantastica e più una rosa? Per tutte le signore, gentilmente offerte da Ital Florist, per ogni esigenza floreale, chiamate il 416 745 70 45. Dovete assolutamente venire qua perché il nome giusto di oggi è Linen Warehouse Outlet, che è aperto proprio qui al Woodridge Mall, all'angolo fra la 7 e Martin Grove. E adesso torniamo alla musica, caro Alessandro, alliva lui, l'Eros nazionale, Eros Ramazzotti, con la sua storia importante. Ed abbiamo ascoltato Toto Cotugno con la sua famosa Solo Noi, prima l'Eros Ramazzotti, con la canzone Una storia importante. Sono le ore 12 e 14 minuti primi di questo giovedì 23 di ottobre, purtroppo parliamo ancora di quella cosa, della vicenda triste successa ieri nel Parlamento di Ottawa, sgommento in tutto il mondo per la tragedia nel Parlamento. Vengono fuori via via notizie, per esempio, che l'attentatore aveva precedenti penali sia in Quebec sia in British Columbia. Michael, l'uomo di 32 anni, che ieri ha sparato davanti al Parlamento di Ottawa, uccidendo purtroppo il militare italo-canadese Nathan Cirillo, prima di essere stato colpito a morte. Lo riportano oggi media canadesi. Il canadese, convertito all'Islam, questo Michael, era stato condannato già in precedenza, per esempio in Quebec, a 60 giorni di prigione, per possesso di stupefacenti nel 2004. Ma non è tutto, perché nel 2011 aveva scontato un altro giorno di prigione per minacce durante una rapina a Vancouver. Lo riporta così l'emittente canadese. I servizi segreti li avevano addirittura confiscato a luglio il passaporto, considerandolo dopo la conversione un viaggiatore ad alto rischio. L'attentatore è stato freddato da un funzionario del Parlamento a pochi metri dalle aule, dove in quel momento i deputati del Partito Conservatore e l'opposizione stavano discutendo come far fronte alla crescente minaccia del terrorismo nel paese. Quindi ci stringiamo tutti con dolore intorno a questo militare italo-canadese, quindi mi raccomando, queste cose purtroppo non dovrebbero accadere. E adesso alle ore 12 e 16 minuti, prima di ascoltarci una bella canzone di Ligabue, Siamo chi siamo, un po' di consigli per gli acquisti. E lo avete riconosciuto senza dubbio tutti, era la splendida voce di Ligabue con la canzone Siamo chi siamo, canzone che abbiamo ascoltato meno di una settimana fa, grazie al grande concerto a Casinorama di questo grandissimo artista. Devo dire che ha emozionato da subito, dalla prima canzone, dai primi 30 secondi che ha iniziato il concerto, ha emozionato tutto il pubblico presente. E adesso parliamo più un attimo di calcio perché oggi, dopo le figure diciamo così e così, non aggiungiamo altro di Roma prima e Juventus ieri, in Champions League oggi torna anche l'Europa League con quattro squadre italiane in campo. Inizieranno per prima la Fiorentina che alle ore 1 di questo pomeriggio affronterà i greci del Pauk Salonico in Grecia. Alla stessa ora anche il Napoli, impegnato in quella della Svizzera contro gli Young Boys. Poi più tardi, alle 3 del pomeriggio, inizieranno le altre due partite Torino contro Helsinki e l'Inter, che è un po' in crisi, affronterà a San Siro il Saint-Étienne, questa squadra francese. Speriamo ovviamente di fare meglio quest'oggi a livello europeo dopo le due sconfitte che ho ricordato prima della Roma e della Juventus in Champions League. Ma adesso fatemi, fatemi dedicare la prossima canzone, è una richiesta specifica dello staff qui, della trasferta di oggi, quindi lo staff vuole questa bellissima canzone di Tony del Monaco, una spina, una rosa, che noi dedichiamo a tutto il personale di Linen Warehouse Outlet. Ed abbiamo ascoltato la splendida voce di Tony del Monaco con questa canzone, Una spina, una rosa, dedicata al personale della trasferta di oggi, perché oggi siamo qui in esterna, siamo dall'Linen Warehouse Outlet che è aperto anche a Woodbridge. Siamo proprio qui al Woodbridge Mall, angolo tra la 7 e Martin Grove, per approfittare delle strepitose offerte del caffè espresso Kimbo, dei biscotti, il tutto grazie a Gigi Importing, fate l'amore con il sapore e una rosa per tutte le signore. Quindi, care casalinghe, uscite di casa anche se è l'ora di pranzo, potete cucinare più tardi e venite ad approfittare delle strepitose offerte sui prodotti per la casa qui da loro. Linen Warehouse Outlet è il nome giusto di oggi, esattamente angolo tra l'autostrada 7 e Martin Grove. E adesso continuiamo con la musica, arriva Alex Britti con la canzone Gelido. Bellissima canzone, Michael Franti insieme a Giovanotti, The Sound of Sunshine. Prima era Britti e Alessio con la canzone Gelido. Ebbene sì, l'ultima canzone che abbiamo ascoltato è proprio adatta a questa bellissima giornata di oggi. 14 sono i gradi adesso all'esterno, c'è un sole fantastico, il cielo è completamente sgombro da nuvole. E adesso voglio parlarvi del pilota tedesco Michael Schumacher, il medico che curò Schummi. Ci vorranno ancora tre anni, ha dichiarato di convalescenza per il povero Schumacher, che non è più ancora in coma e ha indicato da uno a tre anni il tempo di recupero del campione, che adesso si trova in Svizzera nella sua casa di Gland. Un'equip specializzata, fra l'altro, continua a prestargli le cure necessarie e soprattutto i in materia di riabilitazione. Hanno dichiarato che la vita dopo un infortunio alla testa è catterizzata da diversi step, ha detto il medico. Abbiamo speranza ma dobbiamo ancora dargli tempo. Tantissimi auguri da parte nostra vanno al grande pilota di Formula 1, Michael Schumacher, purtroppo che ha avuto un incidente incredibile. Va bene, tanti auguri. E adesso alle ore 12 e 38 minuti primi continuiamo con la musica. Arriva lui, Claudio Ballioni, con la sua classica strada facendo. E abbiamo ascoltato l'ultimo capolavoro di Alessandra Moroso con questa voce fantastica, non devi perdermi. Prima era Claudio Ballioni con la sua classica strada facendo. Alle ore 12 e 50, vi ricordo l'appuntamento di oggi, perché oggi siamo veramente in un posto dove si risparmiano tanti, tanti dollari. Linen Warehouse Outlet è il nome giusto e si trovano esattamente tra l'autostrada 7 e Martingrove. Oggi potete risparmiare fino al 70% su tutte la biancheria, ad esempio, dal letto e anche ai tendaggi che sono scontatissimi. Veramente un prezzo eccezionale. Per esempio, io ve l'ho già ripetuto più volte, gli strofinacci da cucina, 3 per solo 7,99 e le famose tende da doccia oggi le offrano a 9,99. Ma vi ricordo che 3 contenitori per dip in porcellana più il vassoio oggi è in offerta a 6,99. Il prezzo regolare, ricordo, è di 99,99. Così come le lenzuola a misura Queen, a partire da 37 dollari e 99 il set, fino a un massimo di 59,99. Ricordo il prezzo regolare per acquistare questi set, usualmente, è 129,99 e fino a un massimo di 149,99. Quindi vi potete assolutamente convincere che è un prezzo straordinario scontatissimo. Come offrono loro questo bed in a bag, incluso coperta, lenzuoli, fodere e cuscini, copriletto, tutto questo a partire da 49,99. Un prezzo veramente fantastico. E non è tutto, perché i prezzi qui sono già scontati fino a un massimo del 70%, ma oggi, grazie a Radio Cine che è qui, che sta facendo i programmi live, loro hanno deciso di attuare un ulteriore sconto del 10% su questi prodotti già scontati. E ricordo che per una spesa minima di 25 dollari in su riceverete un vassoio in porcellana di marca in omaggio. E così potete sistemare la vostra frutta e i vostri biscotti qui nella vostra cucina. Quindi oggi si risparmia veramente. Casalinghe, cosa aspettate? Questo è il campanello di allarme che oggi vi deve fare uscire di casa e prendere la macchina e guidare fino a qui, fino alla Woodridge Mall, perché Linen Warehouse Outlet offre prezzi straordinari. Trovarci è facile, basta venire fra l'angolo, fra Autostrada 7 e Martin Grove. E adesso continuiamo con la musica. Arriva lui, la voce di Biagio Antonacci, Dolore e Forza. Ed era la splendida voce di Biagio Antonacci con la canzone Dolore e Forza in chiusura di questa seconda ora insieme. E noi la chiudiamo con una bella canzone di Domenico Modugno nel blu dipinto di blu, ma prima un po' di consigli per gli acquisti. Ed abbiamo ascoltato l'ultimo capolavoro dei Modà con la canzone La Sua Bellezza alle ore 13 e 04 minuti primi in apertura della terza ora insieme, insieme a CIN Radio 100.7 Cine FM, insieme al vostro Maurizio, che si trova in una bella postazione, perché oggi siamo in trasferta, come ho detto prima, dagli amici di Linen Warehouse Outlet. Siamo in quel di Woodbridge, esattamente al Woodbridge Mall, angolo fra Autostrada 7 e Martingrove. Oggi si risparmia, carissimi, si risparmia sui prodotti per la casa e quindi dovete assolutamente venire qui per approfittare degli sconti fino al 70% e dello sconto del 10% ulteriore sui prodotti già scontati grazie al remote di CIN Radio. Io vi voglio dare alcuni dei prezzi fantastici, vi voglio ripetere e parlare di questo bed in a bag, incluso con coperta, lenzuoli, fodere per cuscini, copriletto, tutto questo a partire da 49,99, un prezzo veramente fantastico. E poi le famose tende da doccia, oggi le vendano allo strepitoso prezzo di 9,99 così come gli asciugamani che oggi partono dal favoloso prezzo di 6,99 e sono disponibili in tutte le misure. E poi ci sono i due covers, misura Queen e King, a partire da 14,99, un prezzo incredibile. Ma se voi raffrontate quest'altro prezzo, per esempio sulle lenzuola misura Queen a partire da 37,99 il set fino a un massimo di 59,99, il prezzo regolare sarebbe di 129,99 fino a 149,99, quindi un risparmio strepitoso. Inoltre ci sono anche tutti gli accessori per il bagno che oggi vendono a partire dallo strepitoso prezzo di 3,99. Venite qui per un caffè espresso Kimbo per i biscotti, il tutto grazie a Gigi Importing, fate l'amore con il sapore. E una rosa per tutte le signore che ci verranno a trovare. Una rosa gentilmente offerta da Ital Florist per ogni esigenza, chiamate pure il 416 745 7045. Linen Warehouse Outlet è il nome giusto di oggi, esattamente fra l'autostrada 7 e Martin Grove. Venite a trovarci, adesso continuiamo con la musica alle ore 13.07 minuti, arriva Cesare Cremonini. Ed era la favolosa voce di Annalisa con la canzone L'ultimo addio alle ore 13 e 15 minuti prima. Prima abbiamo ascoltato Cesare Cremonini con la canzone Il Pagliaccio. Andiamo a vedere le previsioni del tempo che si fanno interessanti grazie a questo splendido sole che sta illuminando tutta Toronto e tutta la GTE. Sono 15 gradi in questo momento, una giornata che toccherà la massima di 16 gradi, quindi aumenterà ancora di un grado la temperatura. Per una nottata di 6 gradi, cielo completamente sereno, stessa situazione più o meno per quanto riguarda domani, perché avremo una massima di 15 gradi e una minima nella notte di solamente 5 gradi, però di notte non ci interessa. E un sabato soleggiato è previsto con 15 gradi di temperatura massima e 8 la temperatura minima. E andiamo a vedere la situazione sul traffico. Non ci sono per fortuna incidenti in questo momento, il traffico è scorrevole. Ci sono i consueti lavori in corso, per esempio sulla autostrada 400, direzione northbound all'altezza di Jane Street. Ci sono i lavori in corso, quindi fate attenzione, ci sono rallentamenti. Fate attenzione, mantenete la distanza di sicurezza. Stessa situazione sulla 401, direzione eastbound all'altezza di Avenue Road. Ci sono lavori in corso, quindi fate attenzione, il traffico è rallentato. E adesso alle ore 13 e 16 minuti prima di andarci a ascoltare la canzone di Raf Infinito, un po' di consigli per gli acquisti. soleggiato. Ed abbiamo ascoltato la splendida voce di Raf con il suo carpolavoro infinito. Io vi faccio sapere che intanto sono iniziate due partite di calcio per quanto riguarda l'Europa League. Siamo intorno al ventesimo, sono tutte e due 0-0 sia la Fiorentina in Grecia contro il Paoc Salonico, sia il Napoli impegnato in Svizzera contro questi Young Boys che diciamo hanno un nome abbastanza simpatico. Ma a parte di scherzi, arrivano direttamente dal Vaticano le parole di Papa Francesco, esattamente per quanto riguarda la pena di morte. Legale o illegale, che sia, e in tutte le sue forme, abolirla assolutamente. Sono queste le parole di Papa Francesco ed inoltre ha aggiunto che l'ergastolo è una pena di morte nascosta e condanna anche per le cosiddette esecuzioni ex giudiziali o extra legali. Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono chiamati oggi o a lottare non solo per l'abolizione della pena di morte, legale o illegale che sia, ma in tutte le sue forme, ma anche al fine di migliorare le condizioni carcerarie nel rispetto della dignità umana delle persone private della libertà. Queste le parole di Papa Francesco di quest'oggi e adesso alle ore 13 e 26 minuti prima, primi, arriva lei, arriva Anna Oxa con È tutto un attimo. Eh sì. Ed era il grande successo di Anna Oxa con la canzone È tutto un attimo alle ore 13 e 30 minuti primi. Io vi ricordo l'appuntamento dell'esterna di oggi perché oggi siamo in un posto bellissimo, si chiama Linen Warehouse Outlet, siamo in quelli dei Woodbridge, esattamente all'angolo fra l'autostrada 7 e Martin Grove. Venite a trovarci perché ci sono sconti fino al 70% su tutti gli articoli per la casa, ci sono anche i famosi tappeti, i tappetini quelli per l'ingresso, che non ho detto fino adesso, ma potete trovare veramente di tutto. Quindi l'appuntamento giusto di oggi per risparmiare, ricordo anche che in occasione del remote di oggi ci sarà uno sconto ulteriore del 10% su tutti i prodotti già scontati. Quindi senza dubbio venite a trovarci perché il nome giusto di oggi è Linen Warehouse Outlet, esattamente tra l'autostrada 7 e Martin Grove. E adesso continuiamo con la musica, arriva lei, arriva lei, con la sua anima che vola, Elisa. Ed abbiamo ascoltato il grande successo di Drupi con la sua canzone Samba Rio. Ebbene sì, prima abbiamo sentito invece la splendida voce di Elisa con la sua anima vola, veramente una bellissima canzone. Siamo giunti alle ore 13 e 42 minuti primi. Stiamo seguendo le partite di Europa League perché stanno giocando, come ho detto prima, sia il Napoli che la Fiorentina. Si è sbloccato il risultato della Fiorentina nel senso che la squadra toscana si è portata in vantaggio con un gol di Vargas al trentottesimo del primo tempo. Quindi Pauk, Salonico 0, Fiorentina 1. Speriamo bene. Ma adesso volete per esempio andare a concerti a Casinorama, ma non avete la macchina? Nessun problema, Casinorama vi aiuta. Basta andare sul sito casinorama.com, cliccate sulla voce Tours e scegliete l'autobus più vicino a voi e non vi dovete più preoccupare di niente. Casinorama è proprio vero, vi facilita la vita. Quindi adesso a quest'ora, alle ore 13 e 43 minuti, passiamo, continuiamo con la splendida musica italiana. È in arrivo lei, Giorgia, con la canzone Non mi ami. Spero che poi non ce l'avrai con me, ma non sono io, l'immagine che hai di me. Questa bellissima canzone di Francesco De Gregori, Rimmel, prima abbiamo ascoltato Giorgia con la canzone Non mi ami, alle ore 13 e 50 minuti primi di questo giovedì 23 di ottobre. Ci fanno sapere che James Street è chiusa in questo momento fra Shoreham e Stills perché la polizia sta investigando ci sarebbe, non sappiamo cosa, una cosa abbastanza, un infortunio abbastanza grave, quindi faccio sapere che questa strada è chiusa all'altezza di Shoreham e Stills. Il nome della strada è James Street, quindi evitate la zona se siete da quelle parti. E allora io a quest'ora vi devo ricordare della trasferta di oggi, perché oggi siamo in un posto bellissimo, un posto veramente eccezionale, di nome Linen Warehouse Outlet, siamo in quel di Woodbridge, esattamente all'angolo tra la 7 e Martin Grove per approfittare dei prodotti incredibili in offerta, i prodotti che ci servono nelle case tutti i giorni, come per esempio gli strofinacci da cucina 3x7,99, le tende da doccia per il bagno 9,99 e poi ci sono anche gli asciugamani a partire da 6,99 in tutte le misure. Ma ci sono, io ribadisco questa offerta incredibile sulle lenzuola, misura Queen a partire da 37,99 il set fino a 59,99, un prezzo regolare di solito che è di 129,99 fino a 149,99, quindi vi renderete conto esclusivamente di uno sconto altissimo. Oggi tutti i prodotti sono in sconto fino al 70%, ma non è tutto, visto che ci siamo noi qui, che siamo in diretta, grazie alla diretta di CIN Radio, un ulteriore sconto per la clientela del 10% su tutti questi prodotti già scontati, è una cosa incredibile. Ricordo anche l'offerta che se acquistate, venite qui e acquistate, fate una spesa minima di 25 dollari, riceverete un vassoio in porcellana di marca in omaggio e quindi potete sistemare i vostri biscotti, le vostre cose da offrire agli ospiti, quindi è una cosa veramente eccezionale. Ricordo anche il caffè espresso Kimbo, i biscotti e il tutto grazie a Gigi Importing, fate l'amore con il sapore e una rosa per tutte le signori e gentilmente offerte da Ital Florist, per ogni esigenza chiamate pure il 416 745 7045. Il nome giusto di oggi è senza dubbio Linen Warehouse Outlet, esattamente Reta Auto, Strada 7 e Martin Grove a Woodbridge. E adesso continuiamo con la musica, arriva questa bella canzone di Gerardina Trovato. Ed abbiamo ascoltato questa bellissima canzone di Gerardina Trovato, Geki e Vampiri, alle ore 13 e 56 minuti primi. Ebbene sì, siamo giunti per quanto mi riguarda il momento dei saluti e vi ricordo che Ornella, che è qui presente, vi farà compagnia a partire dalle ore 14 fino alle ore 18 in questo splendido posto e quindi vi darà a lei tutte le informazioni e voglio ringraziare anche Alessandro Battaglia e Regia e Mystic Mike. È un caldo buon pomeriggio e una buona serata da parte di Maurizio. Concludiamo con questa bella canzone dei Negramaro, una storia semplice. Ciao a tutti!